ma guardate ma è sopra la foto adesso, sono le foto ma... ma cazzo dritto quello ma mamma sto filmando ma con te devo tagliare tutti i filmini eh? ai dio dio stai con il tuo mushroom il tuo mushroom tip Jack come on torna 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 qui torna qui vieni look at this f***ing asshole, he doesn't come back hey chiamalo pote Jack allora prima di venire qui ci siamo fermati al vinarolo vero? yes yes vero? yes ma quel fungo ti piace così tanto? è un microfono? è bellissimo questo io sono il cantante e ti vengo a ah? è un verbo qualsiasi eh? sì t r o da 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 ok that's enough è un po' è un po' è un po' è un po' è un po'